Ti piace guardare Music Kitchen? Ti piace guardare la gente che guarda Music Kitchen? Ti piace guardare la gente che guarda la gente che guarda Music Kitchen? Ora basta! Come utilizzare Music Kitchen? Prima di tutto, iscrivetevi alla nostra pagina di Facebook. Non ve ne pentirete. È sufficiente mettere un mi piace alla nostra pagina, dopodiché seguire quello che facciamo. Ti piace un video, un link o un post che abbiamo pubblicato? Schiaccia mi piace! Perché limitarsi a mettere solo un mi piace su un post? Commenta e interagisci con Music Kitchen? Commenta, 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 commenta. Per essere un vero fan di Music Kitchen, però, devi assolutamente guardare il nostro canale YouTube. È sufficiente? Iscrivetevi al nostro canale YouTube, se non avete un account YouTube, fatevene uno. Mettere like, mi piace, su YouTube e commentare anche su YouTube e sarei un vero fan di Music Kitchen. Tutto questo su YouTube. E BAM!